E noi restiamo ancora adesso nel mondo della finanza per cercare di orientarci tra l'inflazione e l'altalena delle quotazioni. E allora abbiamo in collegamento con noi oggi in diretta Antonello Di Mascio, responsabile del marketing privati di Banco Posta. Buongiorno Antonello, grazie per essere qui con noi. Buongiorno Francesca. Allora le tensioni dei mercati, lo abbiamo appena visto, sembrano attenuarsi dopo i salvataggi bancari di queste settimane. Ci spieghi cosa sta succedendo nel settore? Allora abbiamo visto nell'ultima settimana alcune crisi sporadiche in America e poi abbiamo visto la grande crisi in Europa, quindi in Svizzera e in Svizzera. Sono due problematiche completamente diverse, la prima per un disallineamento tra la liquidità e i titoli sui quali la banca aveva investito, mentre il fenomeno del KD Swiss è più un fenomeno di cattiva gestione che ormai erano anni che si protreva. Quindi sono due casi completamente diversi, anche se c'è da dire che c'è un tratto comune in tutto il settore bancario, ma direi in generale sul mondo finanziario, che è il ribasso dei titoli obbligazionali conseguente al rialzo dei tassi di interesse. E quindi in questo momento stiamo affrontando una sorta di ricerca di equilibrio tra le politiche restrittive delle banche centrali per domare l'inflazione che dopo il Covid è esplosa e dall'altra parte trovare un equilibrio per non impattare ulteriormente sul prezzo dei titoli obbligazionali. Quindi è una ricerca molto difficile perché sono due spinte che vanno in direzione completamente opposta. Sicuramente era prevedibile, è un fatto matematico, quando i tassi di interesse salgono i prezzi delle obbligazioni scendono e quindi era evidente a tutti che i possessori dei titoli di Stato, ma anche le singole persone fisiche, potessero avere delle minusvalenze per effetto del rialzo dei tassi. Quindi in questo momento la grande ricerca delle banche centrali è trovare la giusta velocità nella politica restrittiva per domare l'inflazione, ma contestualmente trovare anche quelle azioni per ridurre la volatilità e ripristinare la fiducia sui mercati. La cosa più importante è non avere paura e essere fiduciosi che comunque le autorità hanno tutti gli strumenti per gestire le singole crisi aziendali. Ecco, allora Antonello ti chiedo subito, bisogna essere fiduciosi, che consiglio possiamo dare ai risparmiatori anche perché diciamo che in questi momenti di alta volatilità è facile farsi prendere dal panico? In tutte le situazioni di grande volatilità la cosa migliore è non fare nulla, questo non lo dico io ma lo disse un premio Nobel dopo gli tragici eventi del 11 settembre del 2001. Quando i mercati sono molto nervosi la cosa migliore è evitare di fare scelte affrettate o scelte emotive. La cosa più importante è affidarsi a dei consulenti e quindi analizzare in dettaglio il proprio portafoglio e vedere quali possono essere effettivamente i rischi impliciti nel portafoglio. La cosa veramente rilevante è ragionare sul livello di rischio che si può gestire e sull'orizzonte temporale entro il quale si è investito. Quindi tenendo in mente rischio gestibile da un punto di vista finanziario ma anche da un punto di vista di emotività e dall'altra parte l'orizzonte temporale, io credo che la cosa migliore sia aspettare e non fare nulla. La storia ci insegna che tutte le grandi crisi poi vengono superate per motivazioni interne ma anche per l'intervento delle banche centrali perché l'economia si riprende e quindi poi dopo i grandi ribassi ci sono sempre i grandi rialzi. La cosa importante è evitare scelte affrettate perché in questi contesti il mood, il mercato, il sentiment può cambiare molto molto velocemente quindi si può ritornare ad un livello di tranquillità. Oggi comunque è bene dirlo non siamo a livelli di volatilità estremamente elevati. E' leggermente risalita ma siamo ancora in una fase del tutto fisiologica con i mercati che salgono, scendono e quindi sono anche in una fase di riflessione, di valutazione sia dei livelli degli indici sia anche delle prospettive economiche. Quindi non farsi prendere dal panico, stare fermi e soprattutto affidarsi alla consulenza anche in questo caso. Ecco ma più in generale a prescindere dal periodo storico ci dai qualche consiglio per costruire un portafoglio equilibrato e diversificato? Allora noi, ti faccio l'esempio nostro, del nostro modello di consulenza, noi di fatto abbiamo una parte rilevante del patrimonio dei nostri clienti che è allocato sui buoni fruttiferi, quindi garantiti e su una componente di ramo primo che rappresentano un po' la parte core del portafoglio. Poi abbiamo delle multiramo e abbiamo dei fondi per cogliere le opportunità di mercato. L'approccio che noi abbiamo adottato e che suggeriamo costantemente ai nostri clienti è quello dell'ingresso graduale verso un'esposizione all'andamento del mercato sia all'interno della multiramo sia attraverso i piani di accumulo dei fondi comuni. La diversificazione è fondamentale, quindi non bisogna concentrare tutte le risorse in un unico strumento, un unico prodotto, ma comunque occorre diversificare per asset class, per zona geografica, per valuta. E poi la cosa più importante è creare un portafoglio perfettamente coerente con il proprio profilo di rischio, quindi in termini di esperienza, conoscenza e come dicevo prima di orizzonte temporale. Se noi mettiamo in atto un orizzonte temporale corretto, una diversificazione del portafoglio, l'adderenza del portafoglio reale al portafoglio modello, noi possiamo navigare all'interno dei mercati con una relativa tranquillità in un'ottica di lungo termine. Certamente nel breve possiamo essere esposti a delle flessioni, ma guardando avanti questo vuol dire poi cogliere anche altre opportunità. Ti ringrazio, ti ringrazio tantissimo Antonello per questo intervento e spero presto. Grazie, buona giornata a tutti.